Gli ingredienti che ci occorrono sono 75 g di farina, 75 g di fecola di patate, 100 g di zucchero, 3 uova, 70 g di burro, 185 ml di latte, 2 cucchiaini di lievito per dolci, aroma di arancia e vaniglia, cacao amaro 55 g, cioccolato fondente 25 g. Adesso dividiamo i tuardi dagli albuni. Aggiungiamo lo zucchero. Ecco qua che ho montato gli albumi leggermente e adesso andiamo anche a montare un po' i tuorli. Nel frattempo ho sciolto il burro e il cioccolato e formo una cremina. Nella ciotola, insieme agli albumi, andrò a mettere il burro e il cioccolato. Mi raccomando lasciatelo raffreddare prima perché sennò l'uovo si solidifica. Adesso aggiungo i bianchi. Vischio con un cucchiaio. E aggiungo il latte. Adesso inseriamo le due arome, sia di arancia che di vaniglia. E adesso possiamo iniziare a mettere le polveri. Iniziamo con il cacao, la farina e la fecola di patate, i due cucchiaini di lievito e setacciamo. Ecco qui il composto pronto. Adesso non ci resta che metterlo nella forma. Riforniamo a 180 gradi per 45 minuti. Ecco qui la nostra torta appena finita. Una bella spolverizzata di zucchero a velo. Ecco qui la torta finita. Auguri a tutte le mamme, un bacione, pollicini su e al prossimo video.